MIRVA Ciao ragazzi, proseguiamo l'avventura con Delastofa Sveglia, sveglia Qua la situazione non è, non è Forza Le più rogue Chiassami Dai Forza Smettila Ti avevo avvertito Sono infetta Sono infetta Davvero E ora anche tu Guarda lì Tirami sulla manica Guarda lì Starò al tuo gioco Com'è che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo Merda 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 Cosa cazzo ha questa gente? Ho bisogno di un'arma. Ho bisogno di un'arma. Cosa? La ragazza è inferta ed è uccita. È una brutta notizia. Bene. Voglio carabinare tutti quelli che non sono amati. Cazzo. Non ne posso più. Stavolta lui è passato il limite. Sono mesi che lo dico. Gli abbiamo dato troppa corda. Questa ragazza ha ucciso i nostri. Ripuliamo questo casino. Poi faremo un'assemblea cittadina e metteremo ai voti la sua leadership. Ho! Non c'è caso. Impressione! Ah! Oh, marda. Oh, amico, ci sei? Oh, guarda là sotto. Oh, guarda là. Oh, guarda là. Oh, guarda là. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dobbiamo risolverlo. Restate concentrati. Troviamola. Figlio di... Coprimi... 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 Dove vado? Dove sono? Fa così freddo. 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 Grazie. Grazie. Come hai fatto? Fa così freddo. Ops. Ti vedo. Che c'è lì? Devo ammetterlo. Mi hai fregato prima. Eccati. Oh, ehi, Ellie. Mi dispiace per il tuo cavallo. Oh, no. Oh, no. È tutto schifoso. Dai. Ops. e tutti. Non è un po' di chiudica. Ma tutte le altre persone che hai escluso, tiには per��. Questo renderà ancora più forte il nostro gruppo. Meno bosche da sfamare, dovrò vissuti più forti. Ellie! Ellie, avanti! So che muori dalla voglia di dirmi qualcosa. Riscito mezzo di merda. No? No? Niente? Sei sicura? Bene, allora. Ciao. Sei stata in gamba, piccola. Andrà tutto bene. Sai, continui a sorprendermi. Ti ho sentito. Lex! Scappa, coniglietto, scappa. Brava, ragazza. Che cos'è? Che cos'è? No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.